In questo video mostriamo un sistema di assemblaggio che ha la funzione di montare in pochi minuti i quattro lati di una cornice smontata. Con un sistema di incastro a lamello si procede per mezzo di una brugola ad unire i quattro angoli che previamente erano stati contrassegnati da numeri distintivi. Ciascuno degli angoli cioè si caratterizza per avere un numero che useremo durante l'assemblaggio. Questo sistema ci consente di spedire al cliente la cornice smontata. In tal modo la spedizione si rivela essere molto più conveniente sia in termini di spesa che nel lato pratico. In altre parole è molto difficile che la cornice possa arrivare a destinazione danneggiata proprio perché il suo imballaggio è molto più compatto e di minori dimensioni.